E' incredibile come hanno velocizzato i draghi armati, fanno troppo ridere, hanno tutti lo stesso effetto Non sei contento? Oggi si va Si va? Decklist forte Per la rubrica decklist meme, ecco drago armato Adesso così sto alla tua altezza, meno così non mi sento Ok, vai Yu-Gi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale Allora, oggi, tornato Francesco, perché l'ho finanziato a sto giro Gli ho dato tutto quello che usciva da MP22 Che letteralmente è così, Lightning viene da MP22 E' tutto da MP22, a parte... Extrala Si, però è tutta roba comune Ok, quindi ragazzi, se volete montare questo bellissimo mazzo meme Meme Trovate il link del mio car market in descrizione Hai tutto tanto te Si? Si, si, si Tram Lightning Vabbè Comunque, oggi siamo qui per portarvi la deck profile di Drago Armando In memoria di... Ce l'hai il token da mettere? Ce l'ho Ma portate solo decklist... Anzi, io Perché per ora io sto portando solo decklist meme Si? Si, si Bello, Drago Armando Non metto a fuoco Mai C'è la mano a fuoco Non metterà... Eccolo Cambio inquadratura così? Token incredibile fornito da... Mirko si chiama, eh? Da Mirko Ed aiuti e malavita perché hanno la loro grande idea Ma lo compriamo il pleno... Cioè ragazzi, Drago Armando, ma di che vogliamo parlare? Questo allo calze porta Quindi, via con la... Con la deck profile Incredibile Di Drago Armando Partiamo da dire che è un mazzo super meme E che muore da ogni interruzione Quindi forse... Cioè... No, non un'interruzione Qualsiasi entrapp che esiste Esiste Qualsiasi... Sì, ma anche qualsiasi interruzione Cioè se uno c'ha un solo neghino sul campo Tu perdi Perché tutti gli effetti girano intorno a... Vabbè, la carta più forte Che è Drago Armato Palo Ed è l'unico che entra special... Cioè... L'unico che entra special È l'unico che grosso Che si fa special da solo Scartando Un Drago Quindi ci fai Xyz Con il tuo livello 7 Se non ti becchi Ashnivirudroll Tutte le Entrap Poi I Draghi Armati Livelli 3 Che sono fondamentali Per far partire tutto Infatti come vedremo Ne giochiamo praticamente 10 Poi vedremo come Quindi livello 3 Hanno tutti lo stesso effetto Che scartando un'altra carta E tributando loro al cimitero È vocata mazzo o da mano Il livello superiore Il livello 5 Che fa la stessa cosa E il livello 7 Poi Per monocopie Un livello 10 del tuono Un livello al 10 bianco Che entra special Bandendo Se non sbaglio Sì da cimi Sì perfetto E un livello 10 normale Perché tutti i Draghi Armati del tuono Vengono considerati Come Draghi Armati Normali Cioè Lui oltre a essere Drago Armato Del tuono nel livello 3 È anche considerato Drago Armato nel livello 3 Quindi possiamo evocare lui Quello vecchio Poi Loro 3 Lo tributi E speciali Un Drago Di livello 5 Quindi È un altro starter Chiaramente Ci porta Il livello 5 E poi L'ultima carta Tempest Perché chiaramente Con 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 Sarcofago d'oro Bagniamo Tempest Effetto di Tempest E ci portiamo Il livello 3 Scusa una cosa Posso fare una petizione un attimo Dicci Conami Quando è che merita i Redox Così eh Non ci servono i Dragon Ruler Sì No Redox Solo Ma togliamo dalle palle Tempest Merda E ritiriamo Redox Che scarto scarto Faccio le borne Eh capito Meglio di no Poi giochiamo quindi Ok Questi erano i mostri Poi magie Giochiamo Tre Draghi Armati Livello 3 In più Questo ce lo fa fare special Monocopie D'archetipo Oh no L'altra monocopia D'archetipo Eccola qua E In sostanza Questo ce li rende Ci protegge Dalla distruzione Questo ci fa fare special E La trappola Ci pompa i mostri E l'altro effetto Non prendiamo danno Insomma Cioè in realtà L'ho messa perché Ha detto Voglio fare una lista pura Ho detto La trappola Perché no Però qualsiasi altra Stapola andrà sicuramente Meglio di una trappola Di merda D'archetipo Comunque Photo Extravagance Perché non ci interessa Non ci serve l'extra deck Noi vogliamo evocare I nostri ciccioni E fare con quelli Poi visto che vogliamo TK E andare ai secondi Abbiamo un reparto grosso Di Going second card E questi li mettere insieme Sì Le uniche carte costose Sono praticamente queste Perché tutto il resto Lo recuperate con nulla Ma poi non giocatelo Questo mazzo Cioè Se siete degli amanti Dei drag armati Ma non giocatelo È stata una sofferenza Testarlo Però ti dico Riesci con tutte queste carte Distruggi la bordo Dell'avversario Se non hai interruzioni Basta che giochi un livello 3 E ci fai praticamente Scaletta sopra Fino al livello 10 E questo è Ultime due monocopie La carta più forte Se ti becchi un hand trap Diciamo che sei salvo Perché Non è da mp22 Quindi Perché non è da mp22 Però Visto che Praticamente partono Di mono effetto Di livello 3 Poi visto che giochiamo Extravagance E non prosperity Ma non per i soldi Ma perché Tutti i drag armati Per attivare l'effetto Hanno bisogno di scartare Di conseguenza Abbiamo bisogno Di una carta in più Rispetto a vedere Una carta Che ci interessa Perché grosso modo Si riesce sempre a partire Giocando 10 starter Uno lo vedi O vedi Extravagance Se comunque Uno te lo fa vedere Comune da structure Questo mazzo vale Sieno 4 euro Se leviamo Evely e Lightning Storm Vale 4 euro Si Aspetta un secondo Una media di 2 centesimi A carta Si Ah no Ray Jackie vale qualcosina Tipo 2 euro C'è ragione Forse si A 10 euro A 10 euro Ci arriva Poi L'extra Intanto bustine Gentilmente offerte Da Mama Mama Konami Mama Konami Esatto Mamma mia Tremenda L'extra Visto che non ci serve Cioè L'unica carta forte Che ci serve Visto che noi vogliamo Andare secondi Magari poi l'avversario Ci manda primi Di side Mettiamo sicuramente I solenni E cerchiamo Cioè Speriamo di non Bannarci Tutti e tre Tanto giochiamo Tutti i ranghi 7 Visto che I più facili Da evocare Che ce ne abbiamo Un po' sul tavolo Visto che Palo è livello 7 E Vabbè Sappiamo tutti che fa Fa l'effetto di Simpatico di Masquerade Forte Poi altri livelli 7 Tre cosacchi Qui Aspetta un secondo Ma te sei come Antoshow Che deve tenere Rarità differenti Perché povero Deve dimostrare Che c'è una Sì Esatto Non facciamo vedere Quella da Magd Questi due secret Belli E questa Comune Da mago No Sì da mago usciva Però big guy Ah ce l'abbiamo Belli Tutti e due Ultra Perché siamo poveri Da Gaove Costano troppo È secret Da Gaove Meglio così Meglio da Cioè anche da OP No Ultimate Meglio da Blur E Chiaramente L'extra Non è completo Perché Boh Non avevo nemmeno Di recuperare Altri numeri 11 E altro di Drago Ribellione Occhi diversi In ogni caso Se li avete Giocate tutti i ranghi 7 L'unico fondamentale È lui Che speri chiaramente Di non bannartelo Con Extravagance In ogni caso Gioca secondo Perché non ha negazioni Come mazzo E Appunto Punti a sfasciare La board E Cercare di TK E niente Questa è La lista brutta Meme Di drago armato L'unico modo Per poterla giocare Nel 2022 Finché non esce Magari Un Un supporto vero Un supporto vero Perché la Konami ha detto Faccio i draghi armati Del tuono Ma non Resta sempre Un mazzo di merda Fanno così La prossima volta Facciamo proprio Il drago armato puro Quello vecchio Mamma mia E ci vuole un turno Per farlo salire Il livello Però si può giocare La versione Che avevo provato ABC Ojama Drago armato Perché c'è la fusione Che si fa con Drago armato Quindi anche quelli Nuovi del tuono E Yabici E Yoyama Perché la Konami Ha voluto stampare Delle carte magia Che legano Sia i draghi armati E Yoyama Sia Yabici E Yoyama Quindi Sai perché? Vuoi che te lo spiego? Perché De Chaz Sì Perché De Chaz Ha studiato Ho visto l'anime Ho visto Il cartone Ho visto Niente Questo era Ah e i link generici De Extra Ah vabbè C'è nel senso De Extra Giocate Tutti questi Xyz Ranghi 7 E Che ne so Una fenice Un unicorno Per ridere ci mettete Kit Kallos De Extra Per ridere ci mettete Kit Kallos Se ci avete i soldi Se ci avete i soldi Ci mettete Potete giocare Come si chiama? Slayer Ultimate Slayer Quella che è uscita in Potere degli elementi E vabbè Chiaramente i target Nelle Extra Io non ho i soldi Quindi questo è E io l'ho vendute Fatto bene Hanno pagato i 40 euro Fatto bene Fatto bene Bella Dragon Armando però Puoi chiudere il video E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre Vi sia piaciuto Spero di farci Mettete tanti dislike A Dragon Armato Per farci capire Che comunque Il mazzo L'ho fatto veramente schifo E va bene ragazzi Spero che vi sia piaciuto Francesco tornerà Basta che date un po' Di supporto al video Di Dragon Maid Perché è rimasto un po' Deluso dal fatto Che non c'era neanche Un commento Quindi Lasciate questo video Come vi pare Tornate lì No ma è giusto Non c'erano i Beastial Però non erano ancora usciti Quando abbiamo fatto Adesso Se c'ho soldi Li recupero C'ho 3 Druiswurm 3 Lubellion Non lo so Vediamo Quindi ragazzi State mesi E noi ci vediamo Domani Forse Dico forse Almeno così Metto il dubbio E domani non esce niente Domani Ci vediamo domani Domani A Montesanto Pietro Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.